Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi una novità meravigliosa, il nuovo Galaxy Note 10+. Dopo la scorpacciata di video hands-on, ecco finalmente una recensione completa di un prodotto davvero, davvero bello, davvero, davvero completo. Molte luci, qualche ombra nel nuovo Galaxy Note 10, andiamo a vedere quali. Parto dalla confezione, una confezione che ha al suo interno una caricabatteria da 25 Watt, ma si può trovare un caricabatteria accessorio che arriva addirittura a 45 Watt. E poi il cavo per la ricarica o per la trasmissione dei dati, le cuffie con AKG, due adattatori da USB Type-A a Type-C e poi da USB Type-C a microSD e infine le punte di ricambio per la S-Pen. Ma come è fatto questo telefono? Cerchiamo di approfondire. Rispetto al Galaxy Note 9 non c'è una rivoluzione dell'aspetto, diciamo che tutto sommato c'è una evoluzione. Arriviamo a 6,8 pollici di diagonale, molto molto importante, ma tutto sommato la ratio 19 noni riesce a mantenere ancora una dimensione che non è proprio impossibile da impugnare. Un telefono che ha nel suo display la caratteristica principale, non c'è più il noce ma c'è il forelino nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore ci sono ben quattro fotocamere. Una fotocamera principale da 12 megapixel, lo zoom da 12 megapixel, l'ultra wide da 16 megapixel e poi la fotocamera time of flight, cosiddetta TOF per lo scanner 3D e per la misurazione della profondità di campo. Una delle novità importanti di questo telefono dal punto di vista del design è che è stato eliminato su un lato il bottone, che è stato trasferito su questo lato. Vedete ci sono il volume rocker, il controllo del volume e il pulsante d'accensione dalla stessa parte. Bisogna abituarsi un po' nei primi giorni. C'è anche un nuovo menu nel software per la gestione proprio del tasto di accensione, che può attivare Bixby oppure può attivare con un doppio tasto, con una doppia pressione la fotocamera. Sempre con una doppia pressione può attivare una qualunque applicazione, ma non l'assistente di Google. Potete scegliere invece con la pressione prolungata di attivare Bixby oppure semplicemente di attivare il menu di spegnimento del telefono. In alternativa, lo spegnimento del telefono viene posto semplicemente proprio sul menu a scorrimento della tendina. Però ecco, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo che spostamento della fotocamera, Infinity o Display, ma l'elemento principale è la mancanza del connettore per le cuffie, quello da 3,5 mm, che è stato rimosso dal Galaxy Note 10 Plus. Un vero peccato, forse questo è il difetto principale che possiamo trovare su questo telefono. Se invece diamo un'occhiata da vicino al display, che ha una leggibilità davvero incredibile, uno degli elementi da sottolineare è che quando voi aprite la confezione di questo telefono trovate una configurazione Full HD+. La definizione del telefono viene leggermente ridotta. In realtà questo è un display che può arrivare a una definizione QHD. Se vogliamo vedere, c'è una piccola mancanza per quanto riguarda lo schermo di questo telefono, che ha una refresh rate solo di 60 Hz. Dico solo perché per un telefono di questa categoria, di questa classe, di questa potenza, forse si poteva dambire a qualcosa di più. È un Dynamic AMOLED, questo vuol dire tra l'altro una cura dei colori molto più avanzata, DCI-P3 con una gamma dei colori vastissima, HDR10+. Insomma, questo display è veramente un piacere per gli occhi e ha anche una leggibilità alla luce del sole che ha dell'incredibile. Ripeto, se proprio vogliamo entrare a cercare il pelo nell'uovo, forse poteva avere una refresh rate più elevata. Siamo a 114 cm2 di display, quasi 500 pixel per pollice a livello proprio di densità di pixel sullo schermo e abbiamo anche una superficie dello schermo rispetto alla superficie totale che arriva addirittura al 91%. Insomma, dal punto di vista dello schermo, questo è un oggetto veramente superlativo. Giro il telefono per guardare la fotocamera. Ben quattro sensori, quello principale da 12 megapixel con un'apertura variabile da 1,5 fino a 2,4, il sensore zoom 2x con un'apertura 2.1 sempre da 12 megapixel e poi il grandangolo da 16 megapixel con apertura 2.2. C'è un dettaglio molto importante da sottolineare, il sensore principale e quello invece per lo zoom 2x sono stabilizzati con una stabilizzazione ottica. Non succede invece per il sensore grandangolare. C'è poi la fotocamera time of flight, quella per la scansione dello spazio che può essere utilizzata anche con lo scanner 3D oppure per la misurazione della profondità degli oggetti direttamente con il telefonino. Se ne guardiamo il menu della fotocamera, troviamo un menu tutto sommato che ben conosciamo per quanto riguarda i telefoni Samsung ma con una novità rilevante, quella del video fuoco live. Vediamo come funziona. Allora ecco nella salita in montagna la prova della fotocamera anteriore con il live focus video. Altro effetto sempre del live focus video, questo con il bianco e nero di tutto ciò che non è considerato in primo piano. Questo invece è l'effetto video focus live, una delle novità principali del Samsung Galaxy Note. In questo caso semplicemente con lo sfondo sfocato ma ci sono quattro tipi di effetti diversi il bianco e nero di tutto ciò che non è in primo piano e gli altri insomma che vengono realizzati grazie alla telecamera time of flight. Quando utilizzate questo effetto con la fotocamera anteriore il risultato invece è garantito dal lavoro degli algoritmi del Galaxy Note 10. Il fuoco live nei video è una delle novità più interessanti che sono realizzate proprio grazie al sensore time of flight. C'è da dire che questa stessa funzione c'è anche nel Note 10 e c'è anche con la fotocamera principale ma in quel caso viene realizzata con l'uso di un algoritmo, quindi con l'uso del software. Non è questa l'unica funzione particolare della fotocamera di Samsung che è ad esempio allo zoom anche del microfono. Quando si gira un video è possibile zoomare un'immagine e fare in modo che i microfoni vengano concentrati proprio sul punto dell'immagine su cui si sta zoomando. Non è questa poi l'unica novità sempre per quanto riguarda la parte video perché c'è finalmente una funzione molto interessante. Quando si apre la galleria si possono selezionare più video dentro la galleria e formare un unico filmato che può essere editato a piacimento sia per quanto riguarda le transizioni che per quanto riguarda anche il sottofondo musicale. Un software dunque che migliora molto anche per quanto riguarda la fotocamera. C'è una modalità notte. Allora Samsung con la modalità notte tende ad alzare l'iso, ad allungare il tempo di esposizione e questo non sempre dà dei risultati eccellenti. Però se DXOMark dice che questa nel complesso è la miglior fotocamera del mercato è perché complessivamente tra la stabilizzazione video che è eccezionale l'attendibilità dei colori che secondo me è un altro elemento fondamentale. Insomma ci sono davvero tanti dettagli che fanno di questo Galaxy Note 10 Plus un oggetto eccellente per quanto riguarda la fotocamera. Per le foto notturne forse non arriva ancora alla qualità, la capacità di catturare l'attimo di Huawei però vi devo dire che invece la precisione nei colori e i contrasti che riesce a catturare in condizioni normali dal mio punto di vista sono superlative e inarrivabili sul mercato. C'è un tema importante che è quello della batteria 4300 mAh. Allora c'è la carica wireless, tra l'altro carica wireless che arriva ad una velocità elevata perché è una carica wireless da 15 Watt. Abbiamo detto che nella confezione c'è un caricabatterie da 25 Watt, ce n'è un accessorio da 45 Watt che in 30 minuti praticamente vi carica il telefono. Veramente notevole. Notevole anche il fatto che il reverse charge, cioè la possibilità di caricare un altro prodotto che sia compatibile con la carica wireless, emette addirittura una ricarica a 9 Watt che è superiore a quella di molti caricatori wireless da tavolo oggi in circolazione. Io sono riuscito ad arrivare a fine giornata senza un grandissimo stress. Potete fare più o meno 5 ore di schermo acceso. Se avete bisogno di più di 5 ore di schermo acceso nel corso di una giornata non vi serve un caricabatterie ma forse vi serve l'ambulanza. L'Espen è ovviamente uno dei dettagli fondamentali per il Galaxy Note 10. Quando voi aprite il telefono compare immediatamente il menu principale con le diverse opzioni che avete a disposizione. La novità fondamentale per quanto riguarda il 2019 e il Galaxy Note 10 è che questo adesso diventa uno strumento attivo. Dentro c'è anche un giroscopio, dentro c'è una vera e propria batteria. In circa 6 minuti si ottiene una carica valida per un uso di circa 10 ore. Ma soprattutto potete utilizzare gli air actions, ovvero le gestures, i movimenti che voi fate con il pennino. Voi schiacciando il bottone, ruotando il pennino potete fare lo zoom verso l'interno oppure lo zoom in uscita quindi ingrandire, rimpicciolire le foto e poi non solo perché con movimenti verso l'alto o verso il basso potete modificare lo stato della vostra fotocamera e all'occorrenza anche avviare o fermare la riproduzione di video. Io trovo che questo sia un po' un gimmick, non trovo che sia una funzione veramente utile nella vita di tutti i giorni però il pennino rimane un punto di forza eccezionale. Torno al menu che avete a disposizione per due ragioni. La prima è che adesso i live messages sono a formato Instagram Stories e questo vuol dire che hanno sicuramente una maggiore utilità. Non solo perché oltre a questo avete un'altra opzione, quella cioè del disegno AR. Date un occhio come funziona. Per la S-Pen disegnate un qualunque soggetto e poi muovendo, vedete la testa, quello che avete disegnato si muove, come si diceva una volta, accordingly, quindi in coordinamento con le vostre azioni. Avete visto dunque, quando io inquadro il volto posso disegnare con il pennino e viene in pratica agganciato quello che io disegno al volto della persona oppure ad un oggetto nel caso dell'uso della fotocamera principale e quindi muovendo il telefono quegli oggetti si muovono in modalità tridimensionale. Anche questo non so quanti di voi lo useranno, però diciamo che è una funzionalità carina. Molto più interessante è un altro dettaglio. Quando io ho il telefono spento ed estraggo il pennino posso scrivere sul display. Questa è una funzionalità che noi conosciamo già molto bene. Posso salvare la nota scritta che tra l'altro posso esportare in tantissimi formati, ma quello che è più rilevante è che una volta che io scrivo anche con la scrittura, insomma naturale, a mano, posso ricercare i contenuti perché c'è la possibilità di leggere addirittura il contenuto della mia scrittura. Non solo, perché questo vale anche quando io con il telefono ho sbloccato, uso il pennino e usando il pennino posso andare addirittura a fare una selezione intelligente del testo e mi permette addirittura la selezione intelligente del testo di andare a leggere quello che c'è dentro il pezzo che ho ritagliato. Insomma, il pennino, la S Pen, secondo me non è probabilmente utile a tutti gli utenti di smartphone, ma coloro che decideranno di usare il Galaxy Note 10 Plus avranno veramente una serie di funzioni più avanzate. Io diciamo che non sono proprio maniacale nell'uso della S Pen, ma la trovo spesso molto utile, anche semplicemente come un puntatore leggermente più preciso rispetto all'utilizzo di un dito. Interfaccia software, qui ci sono diverse novità molto interessanti da andare a vedere. Intanto c'è la compatibilità con Windows Phone, quindi c'è con l'aggancio del vostro telefono Samsung con l'account di Microsoft. Questo vuol dire che potete ricevere sul vostro computer Windows le notifiche, potete vedere le foto, potete ricevere i messaggi in tempo reale anche quando non siete collegati alla stessa rete. Cioè basta avere il telefono collegato in internet, il computer collegato in internet e ricevete tutto quanto. Per farlo è sufficiente attivare la voce, vedete collegamento Windows che trovate nelle shortcut, quindi nel menu semplificato del telefono, dove trovate anche molte altre possibilità, come ad esempio lo screen recorder. Anche questo è molto carino. Potete registrare quello che voi fate con il telefono e contemporaneamente il vostro volto. Questo vuol dire che può essere utile ad esempio per chi usa Mixer, Twitch, una di queste applicazioni per la condivisione del gameplay. A proposito di gameplay, c'è il Game Center nel telefono che vi permette di ottimizzare le prestazioni del telefono e anche di giocare senza avere alcun tipo di disturbo. Infine c'è Samsung DeX, altro elemento molto importante, ovvero la possibilità di collegare al vostro computer anche Mac il vostro telefono da utilizzare praticamente quasi in modalità desktop. Insomma, questo è un telefono molto potente, questo è un telefono molto costoso, ma questo è un telefono anche incredibilmente completo. C'è qualche mancanza nel Galaxy Note 10, però vi devo dire che io trovo che difficilmente si potrà trovare un telefono più bello. Ci sarà sempre qualche compromesso in qualunque oggetto voi portiate a casa, che abbia un cuore tecnologico, ma il compromesso che si trova in questo telefono diciamo che è più che accettabile. La mancanza del connettore per le cuffie, poi magari qua e là qualcuno potrebbe rilevare qualche dettaglio come il refresh rate del display. Però diciamo che nel complesso io trovo il Galaxy Note 10 ancora una volta il telefono più bello in assoluto del mondo Android. Certo, l'abbiamo detto, è costoso. Probabilmente non ha tanto senso l'acquisto del modello normale, piuttosto che il modello Plus. Io trovo che il modello Plus sia quello in assoluto più giustificato per l'acquisto. Vorrei sapere però anche cosa ne pensate voi. Ciao da Mr. Gadget.